Buongiorno a tutti, rieccoci da Non Solo Animatv, siamo al congresso del mistero dell'esistenza umana di Bellaria. Abbiamo con noi Sasha Pols, ricercatore e maestro spirituale, esperto di energia, di respiro, di trattamento con le mani, adesso approfondiamo. Quali sono e come si formano gli squilibri energetici, Sasha? Quali è il nostro squilibrio energetico inizia nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti? Aus unseren Gedanken und Gefühlen entstehen in weiterer Folge Emotionen. Di nostri pensieri, dei nostri sentimenti si evolvono delle Emotioni. Le Emotioni influenzano il nostro sistema dei meridiani e perciò le Emotioni con la loro energia iniziano ad arrivare nei nostri organi. E così la vita è un equilibratore, eventualmente si potrebbe dire tra le emozioni nostre e i nostri pensieri. E quando questi possono trasformarsi in malattia e come accorgersi? Wann kann dies zu krankheit führen und wie erkennen wir das? Das Leben ist in einem fluss und daher gibt es immer wieder Prozesse, die im Körper eine Auswirkung haben. La vita è un flusso, quindi abbiamo sempre delle situazioni dove c'è una cosa che cambia nel nostro corpo. Wenn ich diese Rückmeldung des Körpers nicht beachte, wenn ich da drübergehe, se io non mi accorgo del segnale che mi da il mio corpo, wird das Muster stärker und stärker und es entsteht daraus krankheit. Questo modello, questo pattern, diciamo, si rinforza e da questo deriva la malattia. Quattroothe Grazie a tutti.